Siamo al voto disciplina dopo questa partita, abbastanza incerta, però è finita con una vittoria per il Green Team Cayman. Da chi cominciamo? Da chi ha vinto? Molto sportivi, hanno chiamato anche perché punizione che l'arbitro non aveva visto. Quindi si sono comportati bene. Bene, questo ci fa piacere. Da parte vostra? Ci cambiamo, ci siamo divertiti, è stata tirata. Va bene così, magari noi stai un po'. Sono troppo brontoloni, abbassiamo i voti. Ha mancato il portiere due settimane, non li riconosco più. Allora, bravi ragazzi, quindi un 10 contro ha cambiato, bravi, bravi.